Pensi sia necessario costruire città vivibili a misura d'uomo? Progettare il territorio consapevolmente, tutelando e valorizzando le identità culturali, storiche ed ambientali? Il corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientali presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria fa per te. Studierai in un clima amichevole, capace di favorire la tua crescita tecnica e culturale, affiancato e seguito costantemente da una docenza giovane e motivata, che si fonda su una tradizione di oltre 35 anni. Viverrai un tecnico specializzato, capace di esercitare la libera professione o di lavorare per enti istituzionali, offrendo consulenza qualificata nella funzione di progettazione e pianificazione della città e del territorio. Se vuoi saperne di più su come iscriverti a pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, vieni a trovarci. Aspettiamo proprio te! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS